Leo Di Gioia è stato molto chiaro, la Regione Puglia sul PSR non è affatto ferma e attraverso il Tavolo Verde organizzato dall'assessorato all'agricoltura è aperta a tutte le soluzioni. Il Tavolo Verde è un'iniziativa che ci consente di tenere le associazioni agricole a confronto su dei temi di merito e quindi non soltanto in una dialettica un po' più ampia che quella che riguarda anche l'opinione pubblica ma proprio di merito cercando di individuare delle strategie condivise. La richiesta che ho fatto a tutti quanti è quella di concretizzare, di sostanziare le proposte che sono state rivolte anche a mezzo stampa in alcuni casi per capirne la praticabilità. Prima di poter decidere dove andare a tagliare queste risorse facciamo in modo di capire se tecnicamente è possibile fare quello che da più parti viene indicata come una soluzione adeguata ed utile. La politica poi si confronterà sulle scelte salvo che deve essere coniugata con ciò che è possibile fare. Raccontare in alcuni casi, ecco questo poi non è un modo per indicare una specifica vicenda, indicare soluzioni che pure sembrano interessanti ma che poi non sono realizzabili complica ancora di più il dibattito politico attorno ad un piano che già di suo è molto difficile da poter attuare se non in una stretta collaborazione con Bruxelles e con i portatori di interesse. Al centro del dibattito il definanziamento dei GAL richiesta da parte di Coldiretti. Alberto Casorio, presidente di GAL Meridonia e referente di Asso GAL Puglia risponde alla Confederazione Agricola. Noi di fronte a tutto quello che sta succedendo siamo veramente molto preoccupati perché questo era il momento di profondare il massimo sforzo per andare avanti con la programmazione e con gli impegni già prese dove tutto il partenariato ha partecipato. Quindi tutte le scelte sono state scelte condivise, sono state rifatte spesso le società, sono nati nuovi GAL sempre sulla scorta dei nuovi criteri. Noi non possiamo accettare ancora che si parli dei GAL come qualcosa di negativo perché se prima dei nuovi criteri, questo ragionamento c'erano i GAL padronali, tutte queste cose qua. Adesso con i nuovi criteri, i nuovi criteri stabiliscono che tutti i GAL sono virtuosi perché la regione ha stabilito dei criteri che vedono una rappresentanza significativa proprio delle associazioni agricole. Non accettiamo più l'idea che i GAL, voglio dire, non sono buone. Noi dobbiamo uscire da questo, anche perché nei territori, come ha dimostrato l'Anci prendendo posizione, i GAL hanno dimostrato in tutti questi anni di essere una parte attiva, voglio dire, dello sviluppo di questo territorio pugliese. Quindi noi, voglio dire, chiediamo semplicemente di andare avanti.